Un ultimo gesto d'amore per Luca, il piccolo di quattro anni che ha perso la vita a causa di un terribile incidente domenica scorsa avvenuto a Pescara, nella casa in cui si riuniva tutta la famiglia nel weekend a pochi passi dallo stradone che collega Monte Silvano a Pescara. Il padre Egno e la mamma Daniela hanno deciso di donare gli organi e ieri è stato autorizzato l'espianto delle corne che poi è avvenuto nell'ospedale Santo Spirito. Una disgrazia che ha coinvolto il papà alla guida di un trattore mentre Luca era lì vicino nel giardino di nonna Laura e Colli che scorazzava con una bici. Dopo aver finito di liberare un fazzoletto di terra dalla sterpaglia intorno alle 15, Egno ha deciso di mettere a posto il trattore nella rimessa. Luca è lì, il tempo di voltarsi, di fare una manovra e il piccolo sparisce nel nulla. La scoperta della tragedia, le urla strazianti dell'uomo che tenta di soccorrere il bambino ma non c'è più nulla da fare. Dopo la ricognizione cadaverica di ieri per accertare le cause della morte, ora si attende il nulla ossa per la sepoltura da parte della procura, il PM Tomolini non ha disposto all'autopsia. Sedati a entrambi i genitori da due giorni, sono riusciti a compiere un altro gesto d'amore. L'ultimo, nella volontà di dare una possibilità di una vita migliore a chi soffre. Una decisione che va nell'unica direzione possibile di una vita che in qualche modo riprende dopo essere stata interrotta bruscamente da un incidente. Grazie a quelle corne, qualcuno potrà ancora vedere un'altalena sospesa ad attendere un bambino che si spingerà fino al limite possibile. Hanno pensato agli altri, Egno e Daniela, e ora dovranno pensare alla piccola Lara, la quale dovranno dire che il fratellino non c'è più. Prima il gesto d'amore, poi toccherà affrontare anche il fascicolo giudiziario che inevitabilmente riporta come atto dovuto l'ipotesi di reato, di omicidio colposo. A carico di Papa Egno, so malgrado anche il fatto di aver spostato il corpo del figlio per tentare di soccorrerlo, inquinando così le prove. Restano i rilievi fatti dalla Polizia Municipale insieme alla scientifica? Certo è che quei due minuti che hanno preceduto il disastro resteranno sempre in una nebulosa come capita nella mente di chi continua ad urlare a se stesso di aver ucciso un figlio. E intanto il gesto del donare gli organi segna un passo che va ben oltre la morte.